Bella ragazzi, sono Beastar, oggi andrò a modificare la Elegy e l'andrò a trasformare come la macchina che c'era in un famosissimo film di auto che mi è piaciuta tantissimo questa macchina, è una delle mie preferite quindi cercherò di farla più simile possibile questa macchina me l'avete in pratica richiesta in molti appunto perché secondo il mio parere è molto divertente da modificare ci sono veramente tante cose che modificano veramente l'aspetto della macchina veramente tanto come vedete scarichi, paraurti anteriore, posteriore, alettoni, poi il colore anche della macchina, i cerchi veramente bella, è una macchina veramente veloce e l'unica pecca è che non frena per niente per frenare vi dovete in pratica schiantare contro le case questa qui per chi non lo sapesse basta che voi andiate in un vostro garage chiaramente in GTA nella storia e aspettare un attimo 10 secondi mi pare poi in alto a sinistra dovrebbe comparirvi un riquadrino, un rettangolo che vi dice se volete le macchine speciali, personalizzate o una roba del genere clicca a destra o a sinistra voi cliccate e lì scegliete la vostra macchina che volete molto semplice, molto intuitivo, quindi potete prenderla e andarla a modificare in più, in questo video voglio dirvi che ho creato la pagina Facebook quindi iscrivetevi tutti alla pagina Facebook che la possiamo parlare, se avete dubbi, domande ci possiamo mettere d'accordo su quando giocare, come giocare, eccetera vi dico inoltre che al centesimo video ci sarà una cosa veramente speciale, sensazionale quindi state attenti quando metterò il centesimo video quindi ne mancheranno veramente altri due o tre forse e appunto chiamate tutti perché sarà un video epico comunque la macchina qua è finita, in questo video ne andrò a modificare due come vedete l'ho fatta un grigio scuro però secondo me stava bene anche un grigio chiaro con blu sopra il tetto, il cofano e anche questi cerchi azzurri blu come li volete chiamare, ecco secondo me sta benissimo così la macchina è veramente una figata assurda, guardate un po' cioè è un toro meccanico questa macchina veramente spettacolare io adesso come sempre vi lascio alla prova su strada che vi piace veramente tanto e noi penso che ci ribeccheremo qui tra un paio di minuti sì, un paio di minuti, dai vi lascio 30-40 secondi magari di guida su strada e ci vediamo dopo è un paio di minuti è un paio di minuti eccomi tornato spero che la prova su strada della Skyline vi sia piaciuta come vedete adesso sto guidando una bella Monroe secondo il mio parere questa poteva somigliare a un Ferrari quindi ho deciso di comprarlo e andarla a modificare prima che mi dimentichi voi potete benissimo commentare su Facebook dirmi tutto quello che volete anche sul nuovo Call of Duty Ghost se volete che faccio qualcosa di strano eccetera scrivetemelo là dentro però con in pratica lo YouTube nuovo YouTube vuole che gli iscritti interagiscano con lo YouTuber scusate un po' per il giro di parole perché se voi non mettete mi piace non commentate in pratica non interagite con me poi i prossimi video non li vedrete perché non vi verranno visualizzati sui vostri feed quindi sì scrivete su Facebook ma scrivete veramente tanto anche su YouTube perché vogliono questa interazione con il pubblico lo YouTuber con gli iscritti e tutte queste menate qui quindi faccio una piccola diciamo correzione a quello che avevo detto prima scrivete tantissimo su Facebook e tantissimo anche sul mio canale YouTube ecco così siamo veramente contentissimi tutti qua vedete che la macchina l'ho fatta nera opaco con i cerchi appunto del Ferrari così sottili devo dire che il nero opaco sulle macchine sta bene però viste in realtà la macchina cioè appena la vedete la macchina si sporca uscite di casa la macchina si sporca qua in città da me ce n'erano un paio che facevano i fighi con la macchina opaca nera opaca penso che l'hanno tenuta un paio di mesi e poi l'hanno data dentro gli hanno cambiato il colore eccetera perché è veramente impossibile da tenere vai fuori di testa e qui vedete appunto la macchina che l'ho fatta questo colore qui scuro con dei bellissimi cerchi veramente appariscenti questa macchina qui mi è piaciuta perché il rumore non è male va veloce la strada la tiene discretamente e poi niente è una macchina così giusto per cambiare un po' perché queste macchine qui un po' con la linea un po' tutta tondeggiante un po' strana così mi sembra che in gta non se ne vedano moltissime per strada quindi la dovete per forza comprare quindi non mi sembrava male eccola qui la macchina è finita spero di aver detto cose sensate in questo video perché mi sono appena alzato come vedete nera opaca con i cerchi azzurri non mi piaceva tanto la cosa cromata sotto però non potevo modificarla quindi se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace commentate iscrivetevi al canale qua su youtube iscrivetevi alla pagina facebook che vedrete in alto a destra o che vi metterò in descrizione adesso chiaramente ci sarà la prova su strada come vedete appunto l'ho rimodificata bianca con i cerchi azzurri che anche questa qui è favolosa come macchina quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.